Sì, è tornato Teodosic a giocare al fianco proprio di Paiola con Bellinelli da numero 3, finta di blocco di Camara, Teodosic, Bellinelli, tripla per Aia e a bersaglio. Per Jaité, consegnato nelle mani di Teodosic, che vuole bloccare su Markel Brown, trova l'angolo giusto per piazzare il blocco, arretra Owens, Teodosic chiude il palleggio, va da Bellinelli che la mette per terra sul close out, il wall de Tensae. Vuole chiaramente accelerare, anche se solo contro diverse maglie nere, la butta via questa volta Varese, però esagerando nella sua volontà di correre, Bellinelli è lasciato libero per questa tripla, importantissima in transizione, la segna. La scuola di 24, adesso devono chiudere, devono finire con il recupero, evitando di prendere un canestro in fascia. Bellinelli servito da Teodosic! Torna da Teodosic, riblocco di Bellinelli, blocco anche di Jaité, gran palla di Teodosic per amare la mano di Bellinelli, ancora i due veterani!